Alcuni attivisti, tra cui anche la consigliera Demma e Eleonora De Mai, hanno ricevuto un avviso di conclusione e indagini per una manifestazione ritenuta non autorizzata all'interno del porto di Napoli sul tema dei migranti. Lei come commenta? Ma va alle compagne e ai compagni a Eleonora la mia assoluta solidarietà per essere accusati del reato di umanità. In quei giorni Napoli era in prima linea per impedire che delle persone potessero morire in mare. Abbiamo inviato il vice sindaco a Malta, siamo stati determinanti per lo sblocco della situazione e questo grazie anche alla mobilitazione di tanta gente. Tra l'altro c'erano centinaia di persone all'interno del porto, quindi va alla nostra e la mia assoluta solidarietà a chi manifesta per salvare vite umane contro chi si rende complici di crimini contro l'umanità. Questi sono testimoni di giustizia e non sono autori o autrici di reato, quindi il reato di umanità non si processa.